Qua chiaramente c'è un mondo e ogni angolo racconta di un qualche cosa. Secondo Lomonaco un atto dovuto, le sue dimissioni stanno ancora facendo discutere i tifosi ma anche gli addetti ai lavori. La frattura può essere ricomposta, si chiedono in tanti e c'è chi l'ha chiesto anche a Lomonaco, chi ha visto cioè quest'atto come una provocazione nei confronti di Pulvirenti. Può essere, io penso che lui sappia quello che deve fare. Pulvirenti intanto ha precisato di non voler più parlare della vicenda e che le situazioni difficili come questa possono essere risolte anche in modo semplice ma non sembra questo il caso. Presidente deluso dunque anche se sempre certo delle qualità professionali di Lomonaco che oggi è a Milano per chiudere due operazioni in uscita e qualcuna entrata, Mouce, Almiron o Lanzafame fra gli altri. È già tracciato, è già delineato e si tratta solo di chiudere le cose. L'unica accortezza che avrò quando dovrò chiudere una cosa, mentre prima la chiudevo e basta, oggi parlerò col presidente del Catania. Intanto ci si domanda quale potrebbe essere il futuro senza Lomonaco che si è dato 15 giorni o poco più di lavoro per la società rossa azzurra. Tutto sport lo vede già come DS del Torino, mentre a Catania potrebbero essere aumentati i poteri di Bonanno ma si cercherebbe anche un sostituto. Allora se arriva X al posto mio e ripeto non voglio andare più oltre, io mi metterò a disposizione di X affinché sia nelle condizioni migliori per poter fare il suo lavoro. Questo se non arriva nessuno io farò il mio lavoro regolarmente. Vedremo come andrà a finire. Intanto ripercorriamo la storia professionale di Pulvirenti e di Lomonaco, una storia che coincide con gli ultimi dieci anni del Catania Calcio. Il servizio sempre di Marco Carli. È stato l'attuale DS del Catania, Pippo Bonanno, a farli conoscere. Lomonaco proveniva dalle esperienze di Brescia e Udine, Pulvirenti e del presidente della Cireale, in un momento di scarsa fiducia nell'ambiente, come lui stesso ha ricordato nel giorno dell'inaugurazione di Torre del Grifo Village. Ci incontriamo con il direttore. Mi ha consumato l'anno. Dieci anni fa. È stato un colpo di fulmine. Un colpo di fulmine che in dieci anni ha portato a tanti successi. La Cireale fu subito promosso nell'allora C1, dove si classificò al quarto posto nella stagione successiva. Poi la possibilità di rilevare la famosa scatola vuota il Catania, gestito precedentemente dai Gauci. La storia è nota. In due anni, promozione in Serie A e poi cinque salvezze di fila condite, le ultime, da record di punti. Inoltre centro sportivo, risultati del settore giovanile, bilanci perfetti. È una città che, in mezzo a tante situazioni negative, poteva anche contare su una realtà di cui andare fiera, come la squadra di calcio nella massima serie. In mezzo all'idilio qualche screzio, l'ultimo al termine della stagione appena conclusa. In questi anni, per vari motivi, ci sono state anche paventate dimissioni di Lomonaco, poi rientrate. Insomma, in attesa di sapere se il titolo, quando la coppia scoppia, come in un film con protagonista Montesano, può rappresentare il finale di questa storia, Lomonaco usa filosofia spiccia per inquadrare ciò che attendi i due nei prossimi giorni. La preoccupazione è che viviamo separato o non separate. Lascia il tempo che trovo. La vita scorre. La vita scorre, appunto, mentre si continua a discutere di queste dimissioni. Non dimentichiamo anche che la squadra di Montella oggi sarà impegnata nella prima uscita stagionale a Cipro contro l'Omonia-Nicosia. Squadre in campo alle 19 ora italiana. I rossazzurri si schiereranno in attacco con il tridente formato da Barrientos, Maxi Lopez e Giamma.